Dal libro del profeta Daniele In quei giorni, abitava a Babilonia un uomo chiamato Joachim, il quale aveva sposato una donna chiamata Susanna, figlia di Kelchia, di rara bellezza, e timorata di Dio. I suoi genitori, che erano giusti, avevano educato la figlia secondo la legge di Mosè. Joachim era molto ricco e possedeva un giardino vicino a casa, ed essendo stimato più di ogni altro, i giudei andavano da lui. In quell'anno erano stati eletti giudici del popolo due anziani. Erano di quelli di cui il Signore ha detto, l'iniquità è uscita da Babilonia, per opera di anziani e di giudici, che solo in apparenza sono guide del popolo. Questi frequentavano la casa di Joachim, e tutti quelli che avevano qualche lite da risolvere si recavano da loro. Quando il popolo, verso il mezzogiorno, se ne andava, Susanna era solita recarsi a passeggiare nel giardino del marito. I due anziani, che ogni giorno la vedevano andare a passeggiare, furono presi da un'ardente passione per lei. Persero il lume della ragione, distolsero gli occhi per non vedere il cielo e non ricordare i giusti giudizi. Mentre aspettavano l'occasione favorevole, Susanna entrò, come al solito, con due sole ancelle, nel giardino per fare il bagno, poiché faceva caldo. Non c'era nessun altro al di fuori dei due anziani, nascosti a spiarla. Susanna disse alle ancelle, portatemi lunguento i profumi, poi chiudete la porta, perché voglio fare il bagno. Appena partite le ancelle, i due anziani uscirono dal nascondiglio. Corsero da lei e le dissero, ecco, le porte del giardino sono chiuse, nessuno ci vede e noi bruciamo di passione per te. Acconsenti e concediti a noi. In caso contrario, ti accuseremo. Diremo che un giovane era con te e perciò hai fatto uscire le ancelle. Susanna, piangendo, esclamò, sono in difficoltà da ogni parte, se cedo è la morte per me, se rifiuto non potrò scampare dalle vostre mani, meglio però per me cadere innocente nelle vostre mani che peccare davanti al Signore. Susanna gridò a gran voce. Anche i due anziani gridarono contro di lei e uno di loro corse alle porte del giardino e li aprì. I servi di casa, all'udire tale rumore in giardino, si precipitarono dalla porta laterale per vedere che cosa le stava accadendo. Quando gli anziani ebbero fatto il loro racconto, i servi si sentirono molto confusi, perché mai era stata detta una simile cosa di Susanna. Il giorno dopo, quando il popolo si radunò nella casa di Joachim, suo marito, andarono là anche i due anziani, pieni di perverse intenzioni, per condannare a morte Susanna. Rivolti al popolo dissero, si faccia venire Susanna, figlia di Kelchia, moglie di Joachim. Mandarono a chiamarla, ed ella venne con i genitori, i figli e tutti i suoi parenti. Tutti i suoi familiari e amici piangevano. I due anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le mani sulla sua testa. Ella piangendo, alzò gli occhi al cielo. Con il cuore pieno di fiducia nel Signore. Gli anziani dissero, mentre noi stavamo passeggiando soli nel giardino, è venuta con due ancelle, ha chiuso le porte del giardino, e poi ha licenziato le ancelle. Quindi è entrato da lei un giovane, che era nascosto, e si è unito a lei. Noi, che eravamo in un angolo del giardino, vedendo quella iniquità, ci siamo precipitati su di loro. Li abbiamo sorpresi insieme, ma non abbiamo potuto prendere il giovane, perché più forte di noi, ha aperto la porta, ed è fuggito. Abbiamo preso lei, e l'abbiamo domandato chi era quel giovane, ma lei non ce l'ha voluto dire. Di questo noi siamo testimoni. La moltitudine prestò loro fede, poiché erano anziani e giudici del popolo, e la condannò a morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò, Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano. Tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me. Io muoio innocente di quanto essi iniguamente hanno tramato contro di me. E il Signore ascoltò la sua voce. Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un giovanetto, chiamato Daniele, il quale si mise a gridare, Io sono innocente del sangue di lei. Tutti si voltarono verso di lui dicendo, Che cosa vuoi dire con queste parole? Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse, Siete così stolti, o figli di Israele. Avete condannato a morte una figlia di Israele, senza indagare, né appurare la verità. Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei. Il popolo tornò subito indietro, e gli anziani dissero a Daniele, Vieni, siedi in mezzo a noi, e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità. Daniele esclamò, Separateli bene l'uno dall'altro, e io li giudicherò. Separati che furono, Daniele disse al primo, O uomo invecchiato nel male, ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce, quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto, Non ucciderai il giusto e l'innocente. Ora dunque, se tu hai visto Costei, di, sotto quale albero tu li hai visti stare insieme? Rispose, sotto un lentisco. Disse Daniele, in verità, la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l'angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza, e ti squarcerà in due. Allontanato questi, fece venire l'altro, e gli disse, Stirpe di Canan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore. Così facevate con le donne di Israele, ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità. Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi insieme? Rispose, sotto un leccio. Disse Daniele, in verità, anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco, l'angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano, per tagliarti in due e così farti morire. Allora tutta l'assemblea proruppi in grida di gioia, e benedisse Dio, che salva coloro che sperano in lui. Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare, con la loro bocca, di avere deposto il falso, fece loro subire la medesima pena, che avevano tramato contro il prossimo, e applicando la legge di Mosè, li fece morire. Con te, Signore, non temo alcun male. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su Pasco gli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Con te, Signore, non temo alcun male. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Con te, Signore, non temo alcun male. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice tra bocca. Con te, Signore, non temo alcun male. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne, tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore, per lunghi giorni. Con te, Signore, non temo alcun male. Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, Gesù parlò ai farisei e disse, Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gli dissero allora i farisei, Tu dai testimonianza di te stesso. La tua testimonianza non è vera. Gesù rispose loro, Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece, non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne. Io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso e anche il Padre che mi ha mandato da testimonianza di me. Gli dissero allora, Dov'è tuo Padre? Rispose Gesù, Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Gesù pronunziò queste parole nel luogo del tesoro, mentre insegnava nel Tempio. E nessuno lo arrestò, perché non era ancora venuta la sua ora. Grazie a tutti.